Guglielmelli Parabola quella di Ceccarelli Tutto è pronto per la battuta La rincorsa Battuta e il gol, spiazzato il portiere Prato si porta sul 2-3 Riesce pressato da 2 Poi mette dentro questo pallone, ottimo per Ceccarelli La battuta e il gol Il diagonale di Ceccarelli col sinistro Prova a sfruttare questa occasione Ceccarelli va via bene a 1, ancora Ceccarelli Vertice destro dell'area di rigore, alla conclusione E il gol del Prato, 3-2 Ceccarelli C'ha 5 reti in stagione E' pronto Tommaso Ceccarelli Fischia l'arbitro Parte Ceccarelli Non fallisce E' 1-1 Battitore del Prato Che ha dunque questa opportunità Al 44esimo e 40 secondi Tutto è pronto per la battuta Volta la barriera del Pisa La rincorsa di Ceccarelli Le attiro, palla che filtra e si infila Alle spalle di Voltolini Prato che ritorna in vantaggio Perde il controllo il Prato Colli lo recupera Poi pallone prezioso per Ceccarelli In area avversaria Ancora Ceccarelli Tiro il gol Gol del Prato Passa in vantaggio il Prato Con Ceccarelli Va Ceccarelli Ancora lui La battuta dentro La palla in fondo al sacco E c'è il gol Il vantaggio del Prato Toffer Casini Non può arrivare su questo pallone Allora Ceccarelli Lungo da Carletti La palla è buona Carletti 1-1 con Ruzzito Carletti lo salta E c'è calcio di rigore Ceccarelli sul dischetto Contro Ruzzito Va Ceccarelli Spiazza Ruzzito Il Prato in vantaggio A Olbia E dunque adesso Tonella interessante La rincorsa Di Ceccarelli Poi c'è anche Cargiulo Va il numero 7 del Prato La battuta E il gol Il gol Strepitosa realizzazione Da calcio di punizione E il Prato si riporta In vantaggio Con un gol strepitoso Di Ceccarelli Cross innocuo Toccato con il braccio Vedremo poi Se c'era rigore Tanto va Ceccarelli Con il sinistro In rete Prato in vantaggio Salio va via Ancora Fiscitella Dentro Per Ceccarelli Il gol del Prato 2-1 del Prato E Ceccarelli Porta il pallone Sulla destra Per Ceccarelli Ceccarelli Il dribbling Poi dentro Ancora per Bertoli Si sbarca bene Il numero 19 La conclusione Con il Chiuso Da Negro Poi Ceccarelli Che vince un rimpallo Dentro la rete I due di Bertoldi Uno Molto ficcante Entrambi ben parati Da Alastra Ancora una volta Carletti Poi la sponda Dentro il cross Per Piscitella Di testa Gare assolutamente Da non perdere Soprattutto il Big match Tra la Seconda E la prima Alto La parabola Spiovente Sulla testa Di Belotti Mette Palla a terra Ceccarelli Buona sciavolata Sulla Prato Vediamo chi sarà A battere Tutto è pronto Per la battuta Di questo calcio Di punizione La rincorsa Di Ceccarelli Con il sinistro Direttamente Verso la porta Con il Prato Che può Suffrire di questo Calcio piazzato Dalla destra Il pallone Addirittura Colpisce la traversa Traversa E' l'esordio Per lui Con una maglia Del Siena Bello Intanto Il numero Di Ceccarelli Che si libera Di Apechino Il passaggio In orizzontale Antonelli La palla è buona In posizione Regolare Moncini Ottimo Ceccarelli Ancora il numero 7 Che punta l'aria Tentoni Il contrasto Del numero 7 Falloso Ed è cartellino Giallo Anche per Tommaso Tentoni Ottima rimonta Del Prato Con Un generosissimo Marini Che è andato a recuperare Su Pesenti Intanto Pesenti Fa Poi l'intervento In scivolata Davvero molto Tosto E stavolta E' su Ceccarelli Il fallo Di Piredda Che si becca Il cartellino Giallo 18 mangio Ceccarelli Prova ad andare via Con la punta Su Belfasti E poi Belfasti Commette fallo Arriva anche Il cartellino Giallo Che gli sottrae la sfera E poi prova a ripartire Ceccarelli Benissima la finta A mandare completamente Al Bar Cristini Poi body check Da parte di Rosso Che finisce anche lui Sul tacchino dei cattivi Insiste Ceccarelli Di Ceccarelli Il palo E' l'occasione vera Col sinistro La battuta Il tiro E la palla Deviata in angolo Dal corner Dal corner Di Tommaso